Improvvisamente la luce si spegne, luci, musica, computer, segnali, onde, telefoni, tutto, e tu rimani l'israiato sul letto, fermo nella penombra, ad osservare i contorni della stanza, cercando di abituarti al buio. Che cosa succede? Dovresti andare a controllare il contatore, ma tutto si spegne e tu cominci a pensare. In un primo momento i pensieri si affollano, le immagini sono violente, tutto quello che è successo nel fine settimana, i luoghi, i volti, i nomi, le parole, le danze, il lavoro, messaggi, codici, numeri, reazioni, reazioni alle cose, poi piano tutto rallenta, adattandosi al buio che ti circonda, come la tua vista. Tutto rallenta e i pensieri si fanno più profondi, così profondi da fare quasi male. Cosa sto facendo? Cosa voglio? Analizzi le tue azioni quotidiane e cerchi di capire se vanno nella direzione dei tuoi desideri e forse è proprio questo il punto, ed è a questo punto che decidi di accendere una candela. Dovresti dormire, potresti dormire, ma il pensiero persiste e allora, forse, decidi di prendere un foglio e cominciare a scrivere. Vorresti scrivere una lettera, sai che è qualcosa di importante da scrivere a qualcuno, ma allo stesso tempo non te la senti, non sai dove trovare le parole, non sai cosa dire esattamente. Il pensiero profondo è già ancora nella stanza illuminata solo dalla luce tremante della candela e così decidi di cominciare a scrivere una storia, la storia di qualcuno, la storia di un buio improvviso e di un tempo che piano piano rallenta, portandoti a pensare più a fondo, a pensare a quello che desideri e a quello che fai per ottenerlo. Che cosa vuoi? Che cosa fai? Forse questa persona nel buio deve scrivere una lettera a qualcuno, ma senza computer o telefono sarebbe impossibile recuperare l'indirizzo dove spedirla. Ma cos'è? Finita l'energia elettrica per sempre? Non lo sai, può darsi, ma in fondo questa storia è un po' una storia senza capo né coda, anzi, a dire il vero il capo c'è ed è, improvvisamente tutto si spegne. La coda ancora non si vede, anche se è come il sentore che stia per arrivare, la coda, la fine. Forse l'indirizzo l'hai scritto in qualche foglio, agenda o tiario, sei sicuro che troverai il sistema per far arrivare la lettera al destinatario? E quindi? Che cosa fai? Cosa fai durante il giorno? Dunque, ti svegli più o meno stordito, dipende da cosa hai fatto la sera prima, fai colazione, ti lavi, fumi una sigaretta, se sei un fumatore, vai al lavoro, svolgi le tue mansioni con più o meno entusiasmo, con più e da volte meno determinazione, ti piace più o meno quello che fai, dipende dai giorni. Nel frattempo inevitabilmente intensi relazioni con persone più o meno simpatiche, più e a volte meno interessanti, colleghi, amici, collaboratori, direttori, assistenti e via dicendo. Sei più o meno su Facebook? Sei più o meno su Gay Romeo? O simili? Sei più o meno connesso? A tratti la sera cucini, più o meno bene, dipende dalla voglia che hai al tuo ritorno a casa. Ogni tanto non torni, esci, vedi gente, fai cose, cinema, aperitivo, cena, caffè, due passi, parti, appuntamenti o quant'altro. Ogni tanto ti ubriachi, se ti piace bere, ogni tanto ti sballi, se sei uno a cui piace la droga. Se poi sei sempre il fumatore di cui si parlava prima, in tutto questo hai anche fumato una media di una sigaretta ogni ora, ora e mezza. Ogni tanto scopi, ogni tanto fai sesso, ogni tanto fai l'amore, anche se magari non sei innamorato. Beh, allora pensi che ogni tanto fai all'amore, come si diceva un tempo. Forse più raramente, e se sei davvero fortunato, ogni tanto nella vita, grazie a Dio, ami. Ami. Ami il tuo lavoro, ami i tuoi amici, ami qualcuno o ami in generale la tua vita. Ancor più raramente, ami qualcuno e sei amato da questo qualcuno. Ma questa è tutta un'altra storia e non riguarda l'elenco di cose che fai durante la giornata. Dunque, dove eri rimasto, cosa fai ancora? Fai la spesa, le pulizie, se non hai la donna che provvede? Magari leggi? Ultimamente troppo poco? E forse guardi la televisione ogni tanto. Ehi ma, aspetta un attimo. Sarà poi vero che le due cose non c'entrino l'una con l'altra? Voglio dire, le cose che fai e l'amore? Se è fatto tardissimo, domani sarà una giornata pesante e sarebbe meglio andare a dormire. Ma tanto la sveglia non suonerà, non c'è energia. Ricordi? Allora ci pensi ancora un attimo. E per un momento non sai più se sei davvero tu che stai pensando o è quell'altro lì della storia che hai cominciato a scrivere, che poi sarebbe dovuta essere una lettera. Per un momento tutto si fa confuso. Quello che vuoi, quello che fai, quello che ami. Tieni un respiro profondo, come per liberare qualcosa, una sorta di peso. Vorresti respirare ancora più profondamente, come quel pensiero nato dal buio improvviso. La campana suona le quattro e questo ti dà un senso di sicurezza. Il tempo che passa, nonostante questa situazione irreale. Il peso che senti ti impedisce di respirare a fondo ed è all'altezza del cuore, come un piccolo dolore, ma non fisico, una tristezza profonda tutta annidata in un piccolo spiglio nel petto e non nella mente. Se sei il fumatore di prima cerchi di straumatizzare e pensi che dovresti smettere di fumare sorridendo amaramente, sai che non cambierebbe nulla. Se sei il fumatore di prima, forse, ti alzeresti finalmente dal letto lasciando i fogli per un attimo e andresti a fumarti una bella sigaretta che in una situazione del genere ce n'è davvero bisogno. Questa storia potrebbe andare avanti a lungo, ma quello che fai è dunque in linea con quello che desideri e quello che ami. Stai facendo del tuo meglio. O magari poi invece stiamo parlando di una persona fatalista che lascia scorrere tutto, cercando di godersi il momento senza preoccuparsi delle conseguenze. No, non stiamo parlando di una persona fatalista. Azione e reazione, causa ed effetto. Le conseguenze. Le conseguenze delle azioni. Le conseguenze dei desideri. Le conseguenze dell'amore.